Pierino! Ho una schizzo! Ma è vero che da oggi torni a scuola? Eh si, non sei contento? E' certo che sto contento, ma mi dispiace per te. E perchè? Cominci male. Ah si? Sapessi che il compito difficile ci ha dato la fase? Che ci ha dato? E ha detto che per domani gli dobbiamo spiegà con un esempio la differenza tra teoria e pratica. Eh capirai che ci avevo messo tanta paura da dicogliare la teoria. Si, e che ci vuole? Mo adesso tu telefoni a casa a tua madre e quando è libero me la dai. Si, buongiorno signora. Senta, stiamo facendo un sondaggio, si per la città. Si mi scusi, volevo dirle, lei per 500 milioni farebbe l'amore come un uomo anziano, si brutto, si zopposi, tutto stracciato, puzzolente e senza denti. Si per 500 milioni. Si, si grazie, grazie ci starebbe. Si, ha detto che ci starebbe. Si, adesso telefona a tua sorella e poi me la dai, vai. Buongiorno signorina, stiamo facendo un sondaggio per la città. Senta, mi scusi, lei per 500 milioni, si mezzo miliardo, eh, per 500 milioni lei sarebbe l'amore con un vecchio brutto, basso, senza denti, pure zoppo. Si, brutto, stracciato, puzzolente, ci starebbe? Si, buongiorno grazie, si. Ma chi ha detto che ci starebbe pure lei? Ho capito, ma che c'entra col compito? Allora, in teoria, voi c'avreste un miliardo dentro casa, invece in pratica c'ha dentro casa tu mignotte. Hai capito qual'è la pratica che la teoria? Ha schizzo, ho fregato, eh. Grazie. 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 Grazie.